Salve a tutti amici ma soprattutto amiche del web, del web, del web, del web. Innanzitutto oggi 14 febbraio, San Valentino, la festa di tutti gli innamorati. Mi raccomando festeggiate questo giorno perché è un bel giorno da passare con la propria compagna, il proprio compagno. Siate romantici, dolci, affettuosi. Buon San Valentino a tutti. Per la rubrica ne parliamo insieme. Discuteremo di un fatto di cronaca nera. Per la precisione, travolta e uccisa da un treno. La vittima è una giovane donna incinta. La tragedia si è consumata, ha trovato precisamente in provincia di Brescia. Prima di continuare, iscriviti al canale, iscriviti al canale. E' molto importante iscriversi al canale. Così avrai sempre una notifica dei nuovi video. Mi raccomando, iscriviti, 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 iscriviti. Tragedia questa mattina nella stazione di Novato, nel Bresciano. Intorno alle ore 10.30, una donna di 35 anni è morta travolta dal locomotore di un treno merci. Il dramma è avvenuto presso il terzo binario. A pochi passi dal sottopassaggio. Sul posto si sono precipitati carabinieri e vigili del fuoco. E due ambulanze. Per la 35enne, incinta da alcune settimane, non c'era più nulla da fare. Sentire una notizia del genere è sempre una cosa bruttissima. Due vite spezzate, sia per la 35enne che per il futuro nascituro o per la futura nascitura. Io quando leggo queste notizie, mi piance veramente al cuore. Perché non è una vita spezzata, ma ne sono ben due. Condoglianze alla famiglia. Mi raccomando, iscriviti al canale per non perdere i prossimi video. Lascia un bel like, condividiamo il video sui social. Un saluto a tutti dal vostro amico V. Al prossimo video. Al prossimo video.